Coppieto di Armello è stata una vittoria importante considerata naturalmente la settimana trascorsa, più una vittoria di testa o di cuore? Penso di tutte e due, penso che sia stata di testa perché oggi c'è stata anche una reazione mentale rispetto a quello che era venuto prima, un essere più liberi mentalmente ma anche liberi a livello tattico, a livello di tante altre situazioni e di cuore perché ci abbiamo messo nel secondo tempo il cuore per portarlo a casa. Hai parlato dal punto di vista tattico, il 3-5-2 sembra essere forse il vestito migliore per questa squadra e forse anche per te e per il tuo partner d'attacco. Sì, oggi abbiamo fatto un'ottima partita, sia a livello difensivo che anche offensivo, abbiamo avuto delle occasioni importanti, abbiamo fatto tre gol, quindi abbiamo preso un gol su pala inattiva, poi abbiamo subito poco con una squadra che è costruita per arrivare almeno nei play-off, quindi penso che per come è stata preparata questa partita in due giorni sia stata un'ottima prova. Pietro, come avete vissuto il cambio allenatore? Il cambio allenatore è ancora un arrivato allenatore, quindi non è che l'abbiamo vissuto ancora al 100%, sicuramente quando ce ne sono ne lo dispiace perché vuol dire che si è fatto male sia noi che lo staff è passato, quindi dispiace, però ad oggi dobbiamo guardare avanti e pensare a Salerno. Grazie.